Un saluto a tutti da Muretz, quest'oggi vi darò alcuni importanti consigli sulla scelta dei componenti per il vostro PC Questo tutorial farà parte di una serie di video che caricherò qui su Jinba Network per assembrare il vostro primo PC Partendo quindi completamente da zero, ma non perdiamoci in utili sproloqui e partiamo Le prime cose da chiedersi per scegliere correttamente la propria configurazione sono Quanto posso spendere e cosa devo barra cosa voglio fare con il mio PC? Per la prima la risposta è abbastanza semplice e per questo non posso aiutarvi Per la seconda la situazione diventa più complessa e il sottoscritto può darvi una mano Iniziamo con un esempio, sei un videomaker duro e puro come Matteo Bini a cui interessa giocare soltanto a GoldenEye, Worms e al massimo a Doom? Allora molto probabilmente il componente principale della tua configurazione sarà il processore E risparmierai magari qualcosa sulla scheda video Oppure sei un giocatore canito che ha un budget basso e che con il proprio PC vuole soltanto giocare senza nemmeno installare un browser Allora senza dubbio spenderai gran parte del tuo budget sulla scheda video Risparmiando molto su CPU e scheda madre Sarà quindi inutile prendere un processore costosissimo se volessimo soltanto giocare O magari un alimentatore con un vantaggio molto alto anche se il nostro sistema non lo richiede Ma andiamo più nel dettaglio per ogni componente Il processore come importanza è secondo solo la scheda video per quanto riguarda il gaming Ma è il componente fondamentale per qualsiasi configurazione non direttamente orientata al gioco Per scegliere correttamente il vostro processore ci sono alcuni concetti base da sapere Intel e AMD sono le principali case produttrici per quanto riguarda i processori consumer Cioè acquistabili da noi comuni mortali Per quanto riguarda il gaming non avete resisteriamente bisogno del miglior processore sul mercato Anzi, soluzioni low budget possono performare anche meglio in particolare i campi di processori più costosi Le principali differenze fra Intel e AMD sono senza dubbio il ratio costo performance Il numero di core Le frequenze e l'affidabilità Intel è da sempre conosciuta per l'affidabilità Da un numero di core minore rispetto ad AMD E' come regina dei portatili grazie ai bassi consumi e alle temperature contenute Inoltre, molti dei processori Intel sono scelte perfette per il rendering 3D e video editing Anche se da molti anni rilascia una serie di soluzioni direttamente orientate al gaming Con moltiplicatore sbloccato Roba da nerd AMD invece è rinomata per un grade o prezzo performance molto elevato Una buona possibilità di overclock grazie allo sbloccaggio del moltiplicatore sulla maggior parte dei processori Ed è inoltre consigliato per configurazioni low budget grazie alle competitive scelte tra gli 80 e i 200 euro Come l'FX8320, un processore 8 core da soli 130 euro Inoltre, grande vantaggio di AMD sono le APU Chip unici che si occupano sia della parte grafica che delle normali operazioni delle CPU Inoltre, delle versioni potenziate di queste APU Equipageranno anche le console next gen Tornando sulle vere e proprie scelte Consiglio senza dubbio AMD per le configurazioni low budget Fino ai 700-750 euro Con processori molto performanti e al costo contenuto Come le APU a 10 Che danno al prezzo di appena 80-100 euro La possibilità di giocare a qualsiasi gioco alla risoluzione di 1080p Consiglio Intel per tutte le configurazioni superiori O improntate al rendering 3D e al video editing Soluzioni infatti appartenenti alla serie 7 Vi danno tutta la potenza e la velocità che vi serve Utilizzando tecnologie come l'hypertrading Che permette di creare dei core fittizi che pur non aumentando le performance come core fisici Hanno quel boost in più che è sempre ben accetto La scelta della scheda madre è di gran lunga la più complicata In quanto è proprio questo il componente su cui si basa la compatibilità degli altri Sarà infatti molto importante scegliere un processore con lo stesso socket della scheda madre Delle RAM con frequenza supportata dalla scheda E sarà inutile comprare ad esempio una scheda video con connettore PCI di terza generazione Se non è presente sulla scheda O un SSD che sfrutta un connettore SATA 3 con una scheda non compatibile Ma vediamo più nel dettaglio come scegliere la scheda madre perfetta per voi Come prima cosa chiaramente dovrete scegliere in base al vostro processore Se prendere una scheda con socket AMD o Intel Fatto questo è il momento di scegliere il socket Sempre in base alla CPU I socket attualmente in commercio sono moltissimi Ma quelli che a noi interessano sono appena 5 2 per AMD e 3 per Intel Quelli di AMD sono La M3 Plus utilizzato per ospitare i processori della linea FX CPU pure esplicitamente pensate per il gaming E la FM2 Socket creato per le APU della casa di Sunnyvale Come le recenti A10 o le più dettate A8 AMD infatti a differenza di Intel non aggiorna molto spesso socket Ciò da una parte offre la possibilità di aggiornare il processore senza comprare la scheda Ma dall'altra lascia indietro AMD rispetto ad Intel Per la compatibilità con gli ultimi connettori PCIe di terza generazione Per il numero di porte SATA 3 e USB 3.0 Che non possono aumentare senza cambiare chipset Per Intel abbiamo invece il recente 1150 della linea Aswell O l'equivalente ma più vecchio di un paio d'anni 1155 che ospita invece la linea Sandy Bridge e Ivy Bridge Infine il più performante 2011 Che ospita i processori della linea Xtreme Particolarmente indicati per le workstation Dedicate al rendering 3D Dopo aver controllato tutti questi parametri È il momento di scegliere la vostra scheda Sempre in base al vostro budget e alle features di cui avete bisogno Il brand dopo tutto non è molto importante Ma alcune case come Asus o Asrock forniscono alcuni plus Per cui vale la pena spendere quei 10-20 euro in più Ogni quale volta si inizia a parlare di schede video È indispensabile conoscere delle nozioni base Ovvero Le due più grandi produttrici di schede video Sono Nvidia ed AMD Le moderne schede video si collegano alla scheda madre Tramite un connettore PCI Proprio come una scheda di rete o audio E infine Le schede video sono principalmente commercializzate da altre case Come MSI o Gigabyte In quanto Nvidia ed AMD Pur offrendo versioni standard Danno la possibilità a queste aziende Di creare una versione custom Per tentare importanti overclock di chip e VRAM Per praticamente gratuiti aumenti di prestazioni Ora tentiamo di dare un paio di regole base Per la scelta della vostra scheda video La GPU è il componente più importante per una macchina da gioco Molto più della scheda madre e perfino del processore A mio parere una cosa da tenere sempre in mente Sono le due domande iniziali Budget ed utilizzo Per una configurazione dedicata completamente al gaming Almeno un terzo del budget deve essere A mio parere dedicato a questo componente Quindi se avete idea di spendere circa 6-700 euro per il vostro PC La GPU nuova di Zecca R9 270X di AMD O la recente 760 GTX di Nvidia Sono la scelta migliore Un'altra importante nozione da conoscere Per scegliere consapevolmente la propria scheda Sono le tecnologie proprietarie dei produttori Come i CUDA, il PHYSX e ShadowPlay per Nvidia E l'esclusività della compatibilità al DirectX 11.2 True Audio e Mantle per AMD Per le prime si tratta di tecnologie create per effetti grafici migliorati nei giochi E la possibilità di utilizzare la propria scheda come secondo processore Per velocizzare, render dei video e molti altri processi Che altrimenti graverebbero sulla CPU Per quanto riguarda ShadowPlay È una tecnologia che permette sulle schede della serie S600 e S700 Di registrare e streamare gameplay di qualsiasi gioco Con minima diminuzione di prestazioni Per le tecnologie di AMD si tratta di importanti ottimizzazioni Per i giochi cosiddetti next-gen come Battlefield 4 Una migliore gestione dell'audio ed un efficiente metodo di ottimizzazione Basato sul lavoro fatto da AMD sulle console Che promette importanti aumenti di prestazione Per sintetizzare dovrete tenere a mente il rapporto di un terzo per il budget E per la scelta fra AMD e Nvidia dovrete basarvi sull'utilizzo del PC Consiglio infatti AMD per le configurazioni totalmente dedicate al gioco E Nvidia per chi, pur non volendo sacrificare la parte gaming Ha bisogno di utilizzare programmi di grafica e video editing Anche se, in fin dei conti, le due aziende, se non in particolari campi Come la gestione del 3D o dei multi-monitor, si equivalgono E quindi, signore e signore, siamo arrivati alla fine di questo primo video Su come costruire un PC Ringrazio in particolare Kinguin.it Che ci ha fornito le chiavi di alcuni giochi Che utilizzeremo nel video di overview finale di questa serie A proposito appunto di benchmark e conclusioni E chiaramente, oltre a questi due video La serie su come costruire un PC Avrà anche la scelta dei componenti di alimentatori Case e hard drive E la costruzione in sé del PC Quindi, vi saluto Un saluto a tutti da Muretz degli UFO Shop E da tutto lo staff di Jinba Network Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti